Lunedì 1 luglio, la notizia della morte di Fernando si diffonde rapidamente, lasciando tutti gli abitanti della promessa sconvolti e in preda al dolore. Le voci si spargono, i volti si fanno cupi, e l'atmosfera cambia improvvisamente, tingendosi di lutto e malinconia. Ogni angolo della tenuta riflette la tristezza della perdita, mentre i preparativi per la veglia notturna iniziano a prendere forma. Nel frattempo, la servitù è in fermento, discute animatamente della recente operazione di Salvador. La curiosità e la preoccupazione per la sua salute sono palpabili, ma non sono sufficienti a distogliere l'attenzione dal grave lutto che ha colpito la comunità. Feliciano, con il peso del rapimento di Diego sulle spalle, tenta disperatamente di riconquistare l'amicizia di Salvador. Ogni gesto, ogni parola, è un tentativo di riavvicinarsi a lui, di riparare un legame che sembra irrimediabilmente compromesso. Abel, con voce grave, annuncia che Fernando è morto a causa di un attacco di cuore. La sua dichiarazione lascia un silenzio carico di incredulità e dolore. Tra i presenti, Gianna prende sotto la sua lacurro, offrendogli consigli e incoraggiandolo a stare vicino a Martina in questo momento di bisogno. Le sue parole sono un balsamo per un animo sconvolto, una guida in un momento di smarrimento. Mentre Lope e Simona si dedicano alla preparazione del cibo per la veglia notturna di Fernando, Gianna difende con fermezza l'operato di Abel davanti a Maria, cercando di mantenere la fiducia e l'unità tra di loro. Le tensioni sono alte, ma la solidarietà sembra essere l'unica via per superare la tragedia. Teresa è profondamente turbata, scopre che è stato Feliciano a rapire il figlio di Pia. La sua mente è un vortice di emozioni contrastanti, tra rabbia e dolore. Mauro, vedendola in difficoltà, cerca di consolarla con parole dolci e gesti affettuosi, ma Teresa rimane fredda, incapace di lasciarsi andare. Il tradimento di Feliciano è un macigno sul suo cuore e sospetta che dietro le sue azioni ci sia la mano manipolatrice di Petra. Pia condivide i suoi sospetti e insieme cercano di mettere insieme i pezzi di un puzzle intricato e doloroso. Abel apprende con sgomento che Manuel è stato quasi costretto a sposarsi con Jimena dopo la morte di Thomas. Questo fatto aggiunge ulteriore tensione alla già complicata situazione. Nel silenzio dell'hangar, Jana incontra Manuel, che sembra portare il peso del mondo sulle spalle. Lei cerca di consolarlo, di offrirgli un momento di conforto in mezzo al caos. Manuel, grato, la abbraccia, trovando in lei un raro momento di pace. Ma il destino sembra voler aggiungere ancora un altro strato di complessità. Abel arriva proprio in quel momento e li vede abbracciati. La scena davanti ai suoi occhi è un colpo al cuore, un'ulteriore complicazione in una situazione già carica di tensione e dolore. La veglia notturna per Fernando si trasforma così in un crocevia di emozioni e rivelazioni, dove ogni personaggio deve confrontarsi con i propri demoni interiori e con le relazioni che si intrecciano e si spezzano sotto il peso degli eventi. Martedì 2 luglio. Abel sorprende Jana abbracciata a Manuel nell'hangar. Nonostante il colpo al cuore, non si lascia scoraggiare e decide di non arrendersi facilmente. La scena lo lascia pieno di domande, ma sa che non è il momento di affrontarle. Nel frattempo, Margarita, consumata dalla rabbia e dal dolore, accusa i marchesi di essere responsabili della morte di Fernando. La sua furia è palpabile e non accetta di condividere il suo dolore con altri. Rifiuta categoricamente una veglia funebre allargata, restringendola ai soli familiari. Questa decisione crea un'atmosfera tesa e carica di risentimento nella tenuta. Pia, dal canto suo, inizia a mostrare segni di esaurimento nervoso. La pressione degli eventi recenti la sta logorando, e Romulo, sempre attento, nota il suo stato di fragilità. Deciso a sostenerla, le offre tutto il suo appoggio, cercando di alleviare almeno un po' il peso che grava sulle sue spalle. Cruzza in ansia per i miglioramenti che Ramona sta mostrando e, sospettosa, chiede a Petra di indagare ulteriormente. Ramona, grata per l'aiuto che ha ricevuto, avverte Jana dei possibili pericoli legati alle tensioni con il fratello, sperando di proteggerla da ulteriori complicazioni. Alonso, pressato da Margarita, decide di fissare il funerale per il pomeriggio del giorno seguente. Questa scelta improvvisa sorprende Romulo e tutta la servitù, lasciandoli a chiedersi il motivo di tanta fretta. Inoltre, Alonso ordina a Cruz di informare il duca Antonio, futuro genero di Fernando, malgrado il fermo di niego della vedova. Cruz, pur riluttante, promette di farlo. Nel frattempo, Martina è sopraffatta dal rimorso. In un momento di vulnerabilità, confessa a Catalina di aver detto cose terribili al padre. Le sue parole sono un tentativo di liberarsi dal peso del senso di colpa che la tormenta. Orengo, in un raro momento di confidenza, rivela a Candela quanto Simona sia una vera amica, assicurandole che la sosterrà in qualsiasi decisione prenderà. Questa rivelazione rafforza il legame tra di loro, offrendo un raggio di speranza in mezzo alle difficoltà. Infine, Margarita, ancora al capezzale del marito, giura vendetta contro Cruz. Il dolore e la rabbia la consumano, e la sua determinazione a far pagare chiunque ritenga responsabile della sua sofferenza è incrollabile. Il suo giuramento segna un punto di non ritorno, promettendo ulteriori conflitti e drammi a venire. Mentre la notte cala sulla promessa, l'ombra della vendetta e delle tensioni irrisolte si allunga, promettendo nuovi sviluppi e scontri. Ogni personaggio è intrappolato nella propria rete di emozioni, cercando di navigare tra le complessità dei loro legami e delle loro aspirazioni. Mercoledì 3 luglio. Cruz accetta che Petra si prenda la colpa per il rapimento di Diego al posto del fratello Feliciano, evitando così che Pia lo denunci alla Guardia Civile. In cambio, Cruz ricompensa Petra con una generosa somma di denaro e ottime referenze, garantendole un futuro migliore. Petra, sebbene consapevole delle conseguenze, accetta il patto, sapendo che sta proteggendo suo fratello. Nel frattempo, Salvador è pronto a togliere la benda dall'occhio. Lope e Maria sono al suo fianco, i loro volti riflettono un misto di ansia e speranza. Salvador si prepara a scoprire se l'operazione ha avuto successo. Il momento è carico di tensione mentre la benda viene lentamente rimossa. Mauro, ancora elettrizzato dal bacio con Teresa, si lascia trasportare dall'illusione di un possibile amore. Tuttavia, Teresa lo frena e gli confessa di essere innamorata di Feliciano. La rivelazione è un colpo al cuore per Mauro, che vede svanire le sue speranze in un istante. Teresa è decisa e non lascia spazio a malintesi, lasciando Mauro sconvolto e confuso. Ramona, rileggendo la lettera di Dolores destinata ai figli Mariana e Marcos, Giana e Curro, realizza con rammarico che non rivelando loro il contenuto, ha solo alimentato i loro attriti. Pentita, chiede a Giana di tornare dopodomani con il fratello per una rivelazione importante. La speranza di Ramona è di mettere finalmente fine alle tensioni e ricucire il legame tra i due fratelli. Mercedes, determinata a risolvere la questione della gravidanza di Gimena, la spinge a fingere un aborto naturale usando del sangue rimediato. Tuttavia, Gimena, mostrando una forza inaspettata, rifiuta il piano di Mercedes, decisa a non seguire quella strada ingannevole. Nel frattempo, Petra confessa a Romolo di essere l'unica responsabile del rapimento di Diego. La sua confessione è sincera, ma Pia, avendo sentito il fratello confessare la colpa, non le crede. Petra insiste, cercando disperatamente di scagionare Feliciano dalle accuse e di far comprendere la verità a Pia. Abel, nonostante i rifiuti, continua a insistere con Gianna, cercando di convincerla con ogni mezzo a sua disposizione. Gianna, però, declina fermamente il suo invito, determinata a mantenere le proprie convinzioni e a proteggere se stessa e coloro che ama. La sua risolutezza è evidente e Abel, sebbene frustrato, riconosce la sua determinazione. Alla promessa, le tensioni sono palpabili. Ogni personaggio si trova a navigare attraverso un labirinto di inganni, confessioni e speranze infrante. Cruz osserva attentamente ogni movimento, preoccupata che il delicato equilibrio possa essere infranto da un momento all'altro. Pia, combattuta tra la lealtà familiare e la sete di giustizia, cerca di trovare una via d'uscita senza compromettere la verità. Salvador, con il supporto di Lope e Maria, affronta il suo momento di verità, sperando che il suo mondo torni a splendere. Mentre la notte cala sulla promessa, l'ombra della vendetta, delle tensioni irrisolte e delle relazioni complicate si allunga. Ogni personaggio è intrappolato nella propria rete di emozioni, cercando di trovare una via d'uscita in mezzo al caos. La determinazione di Giana, la disperazione di Petra, la speranza di Salvador e la rabbia di Cruz promettono ulteriori sviluppi e scontri. La promessa di un nuovo giorno porta con nuove sfide. E nessuno può prevedere cosa riserverà il futuro. Giovedì 4 luglio. Salvador toglie le bende dagli occhi e, dopo un primo momento di cecità, torna a vedere chiaramente da entrambi gli occhi. La gioia esplode tra i membri della servitù, che festeggiano insieme a lui. Per ringraziarli, Salvador fa un bel discorso e offre loro una dolce colazione. Tuttavia, Maria percepisce che qualcosa non va, un'ombra di preoccupazione le attraversa il volto. Nel frattempo, Margarita, determinata a rimediare ai danni causati da Cruz, convince Martina a telefonare al Duca Antonio per assicurarsi che il fidanzamento non venga ulteriormente rinviato. La telefonata è carica di tensione, ma Margarita spera che questo gesto possa riportare un po' di stabilità. Abel organizza una cena a sorpresa per Giana. All'inizio, la serata sembra andare bene, con conversazioni piacevoli e sorrisi. Tuttavia, in seguito, Abel confessa a Manuel le difficoltà che sta incontrando nella sua relazione con Giana, osservando attentamente la reazione dell'uomo. Pia, decisa a scoprire la verità, affronta Petra e pretende spiegazioni sul rapimento di Diego. Teresa, con la stessa determinazione, fa altrettanto con Feliciano, cercando di arrivare al cuore della questione. Don Carlos, intanto, torna a parlare con Candela riguardo alla possibilità di un futuro insieme. La conversazione è delicata e piena di emozioni, e Don Carlos informa Candela che partirà per Sevilla per qualche giorno insieme alla figlia. Nel cuore della notte, Giana e Curro si dirigono verso la capanna di Ramona. L'atmosfera è carica di aspettative e tensione, mentre i due fratelli si preparano ad affrontare una rivelazione importante che potrebbe cambiare tutto. Ogni personaggio è immerso nelle proprie lotte e speranze, cercando di navigare tra le complicazioni della vita alla promessa. Le relazioni si intrecciano e si complicano, promettendo ulteriori sviluppi inaspettati. Venerdì 5 luglio, Gimena, in preda all'ansia, si avvicina ad Abel con una proposta audace. Le sue mani tremano leggermente mentre gli chiede di nascondere la sua finta gravidanza a Manuel. In cambio, promette ad Abel un ricco compenso che potrebbe cambiare la sua vita. Abel, attratto dall'offerta e dalla possibilità di guadagno, accetta senza esitazione, ignorando le possibili conseguenze morali e legali della sua decisione. Nel frattempo, Feliciano si trova faccia a faccia con Teresa, il suo volto segnato dalla tensione. Con voce bassa e tremante, racconta tutto ciò che è accaduto la notte del rapimento del figlio di Donna Pia. Le sue parole sono pesanti, cariche di dettagli che gettano nuova luce sull'evento. Teresa ascolta attentamente, ogni parola scolpita nella sua mente, mentre cerca di processare la rivelazione scioccante. Gianna, preoccupata e inquieta, riferisce a Curro della scomparsa di Ramona. Entrambi si rendono conto della gravità della situazione, ma sono consapevoli che dare l'allarme potrebbe svelare il loro legame con la donna. Decidono quindi di mantenere la calma e di cercare una soluzione alternativa, anche se l'ansia cresce con ogni minuto che passa. Dopo una serata apparentemente perfetta, Abel, raggiante di felicità, racconta a Manuel della cena romantica con Gianna. Gli occhi di Abel brillano mentre descrive i dettagli della serata, la conversazione fluida, i sorrisi scambiati. Manuel ascolta con un misto di felicità per il suo amico e una sottile invidia per la sua fortuna. Margarita, con il cuore pesante, parla con Martina. Le sue parole sono delicate ma decise, cercando di rassicurare la figlia dopo averla spinta a chiarire con il fidanzato la cancellazione della festa di fidanzamento. Durante la conversazione, Margarita confessa di avere seri dubbi sulle circostanze della morte di Fernando. La sua voce si incrina leggermente mentre giura di vendicarlo, il dolore e la determinazione mescolandosi nei suoi occhi. Maria, sentendosi sopraffatta dal dolore per il rapporto incrinato con Lope e Salvador, prende una decisione coraggiosa. Li convoca a sorpresa, determinata a chiarire la situazione. L'atmosfera è tesa quando si incontrano, ma Maria, con voce ferma e decisa, espone i suoi sentimenti e le sue speranze di risolvere i conflitti che li separano. Alonso, con un tono solenne, informa Martina e Margarita che potranno alloggiare alla tenuta quanto vorranno. La notizia dovrebbe portare sollievo, ma quando Cruz viene informata, manifesta il massimo disappunto. Il suo volto si oscura di rabbia e frustrazione, rendendo evidente il suo malcontento per la decisione di Alonso. Infine, Alonso annuncia alla famiglia l'arrivo di un ospite importante, il duca Pelayo Gomez della Serna. La notizia crea un'ondata di tensione nella famiglia. Ogni membro della famiglia reagisce diversamente, alcuni con curiosità, altri con preoccupazione. L'arrivo del duca promette di aggiungere un ulteriore strato di complessità alla già intricata dinamica familiare, preannunciando nuovi sviluppi e sfide che metteranno alla prova tutti. La giornata si chiude con un'aria di anticipazione e nervosismo. Ogni personaggio è intrappolato nelle proprie preoccupazioni e speranze, mentre le ombre della notte scendono sulla promessa, promettendo che il nuovo giorno porterà con sé nuove verità e rivelazioni. Sabato 6 luglio ore 15 e 30. Martina rompe definitivamente con Curro, lasciandolo con il cuore spezzato. Curro, visibilmente affranto, cerca di mascherare il suo dolore, ma la sua sofferenza è evidente a tutti. Nel frattempo, Abel continua a indagare sulla natura della relazione tra Jana e Manuel. La sua curiosità è insaziabile, e non si ferma nemmeno mentre confabola con Jimena, aiutandola a mantenere la farsa della sua finta gravidanza. Ogni conversazione con Jimena è un'opportunità per Abel di carpire ulteriori dettagli e capire meglio cosa stia succedendo tra Jana e Manuel. Ramona è ancora dispersa, e i gruppi di ricerca non riescono a trovarla. La situazione si fa sempre più disperata, mentre la Marchesa ostacola le ricerche, insistendo che non vengano effettuate nelle terre della promessa. Questa decisione lascia tutti perplessi e sospettosi, ma pochi osano sfidare apertamente la sua autorità. Pia, grazie alle confidenze di Romulo, scopre che dietro il rapimento di Diego c'è la mano della Marchesa. Nonostante il timore, Pia non osa affrontarla. Tuttavia, Jana la incita a prendere coraggio, insistendo che Cruz ha commesso un grave crimine e deve essere fatta giustizia. Le parole di Jana sono un richiamo alla verità e al coraggio, ma Pia è ancora indecisa, combattuta tra paura e senso di giustizia. Don Carlos torna dal suo viaggio, ma nonostante le sue smentite, Candela percepisce che qualcosa non va in lui. Il suo comportamento è diverso, e Candela, con la sua sensibilità, capta le sfumature di un disagio nascosto. Nel frattempo, Lope e Salvador accettano la richiesta di Maria di tornare a essere amici. La loro riconciliazione è un raggio di luce in un contesto altrimenti carico di tensioni. Teresa, invece, continua a rifiutare Mauro, mantenendo le distanze, mentre sembra riavvicinarsi a Feliciano, riaccendendo vecchie dinamiche e complicando ulteriormente le relazioni interpersonali. Alla promessa, cresce l'attesa per la visita del conte di Anil, il signor Pelayo Gomez della Serna. L'intera tenuta è in fermento, preparandosi per l'importante evento. Nel frattempo, Margarita prepara una sorpresa per sua figlia e la cognata, un gesto che promette di aggiungere ulteriore tensione e inaspettati sviluppi. Ogni personaggio è intrappolato nelle proprie trame e conflitti, mentre la tenuta di La Promessa si prepara ad affrontare nuove sfide e rivelazioni. Le relazioni si intrecciano e si complicano, creando un mosaico di emozioni e tensioni che promette ulteriori colpi di scena. Domenica 7 luglio ore 15 e 30. Alla promessa arriva l'inaspettata visita di Antonio e del conte di Anil. La sorpresa scuote tutti, ma soprattutto Cruz, che scopre che Margarita era il corrente dell'arrivo di Antonio. Risentita e furiosa, Cruz si sente tradita e medita sulle possibili conseguenze di questa scoperta. Le ricerche di Ramona continuano senza sosta, creando un'atmosfera di tensione e preoccupazione. Curro vorrebbe partecipare attivamente alle ricerche, ma Lorenzo glielo vieta, temendo per la sua sicurezza. Curro è frustrato, ma non osa disobbedire agli ordini. Martina, decisa a portare avanti i piani per il fidanzamento, parla con Antonio. La sua determinazione è chiara mentre gli dice che devono andare avanti con il loro impegno. Antonio, colpito dalla sua risolutezza, tenta di baciarla, ma il momento è carico di tensione e incertezza. Don Carlos, nel frattempo, appare particolarmente triste. La sua malinconia è evidente a tutti, e sembra avere qualcosa di importante da confidare a Simona. Il peso di un segreto non detto grava su di lui, rendendo ogni sua azione più lenta e pensierosa. Lorenzo, in un momento di confidenza, dice a Cruz che forse Margherita sospetta del suo coinvolgimento nella morte di Fernando. Le parole di Lorenzo aumentano la tensione già palpabile, lasciando Cruz a riflettere sulle implicazioni di tali sospetti. Jimena, cercando un momento di sollievo e spensieratezza, decide di fare un bagno al fiume. Dopo essersi rinfrescata, si lascia andare a qualche passo di danza, ma in un attimo di disattenzione cade goffamente davanti a Manuel e Catalina, suscitando una reazione di sorpresa e preoccupazione da parte loro. La visita del conte dei anile di Antonio porta con sé un vortice di emozioni e tensioni alla promessa. Ogni personaggio è immerso nelle proprie lotte interne, mentre le dinamiche della tenuta si complicano ulteriormente con l'arrivo dei nuovi ospiti. Le relazioni si intrecciano e si evolvono, promettendo ulteriori sviluppi e rivelazioni inaspettate. Grazie per averci seguito fino alla fine. Iscrivetevi al canale se ancora non lo siete per non perdere nulla di…